Neve a bassa quota sull'appennino tosco-emiliano. Dalla serata di ieri, con il contemporaneo abbassamento delle temperature e il passaggio di una perturbazione, sui monti che dividono le due regioni stanno scendendo abbondanti fiocchi bianchi. Al momento i fenomeni si stanno concentrando soprattutto sul versante settentrionale, direttamente esposto alle correnti fredde ed instabili che soffiano dal nord-est. Neve anche sul comprensoria betonese, versante toscano, con l'altezza del manto bianco che ha raggiunto i 20 e più centimetri. Imbiancatura anche sulle colline intorno a Pistoia con quota stimabile in 5-600 metri, destinata a scendere con il passare delle ore. E a proposito di nevicate, la sala operativa della protezione civile regionale ha previsto una situazione da codice giallo fino al tardo pomeriggio di giovedì. Alla base di tutto c'è il protrarsi di una zona di bassa pressione, che dalla Sicilia richiama masse di aria fredda verso la Toscana. Il codice giallo serve ad evidenziare precipitazioni nevose e vento forte. Giovedì infatti saranno ancora possibili nevicate di debole intensità fino a bassa quota sui settori appenninici, con possibile nevischio anche in zone di pianura. Il vento soffierà dal nord-est con forti raffiche.